Sei un rifiuto umano, uno spreco di spazio ideologico Si, si hai ragione guardi Non so come sia potuto accadere E' chiaro? Si, si Guardi provvederò subito io Aspetta, ora voglio insultarti Sei tuoso cretino che non sia Sei davvero un imbecino Arrivederci Ma sei un coglione! Una cosa dovevi fare e mi combini questo! Cosa cazzo avevi in testa? Cosa cazzo avevi in testa? Ma il pezzo l'abbiamo deciso insieme Risparmi le tue cazzate sull'integrità giornalistica Hai oltrepassato il limite Porca putt... Come hai osato definire l'outfit di Achille Lauro Bacchiano? Quelle scarpe Non nominare le scarpe! Non nominare le... Scarpe Ti voglio fuori da quest'ufficio ora Prendi le tue cose e va Te ne sei licenziato Ma io voglio... Non voglio segne ma! Fuori! Ora! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.